Ci vediamo il 25 settembre in Viale Ionio 153 a Taranto E il 26 settembre in Piazza Mercato a Rocca Piemonte in provincia di Salerno Ci divertiremo tantissimo, non vediamo l'ora Ciao! Buongiorno ragazzi, io sono Eri E io sono Dominique E chi siamo? Ed insieme! Ed insieme, quello lì è Harry Potter Sì, proprio lui E lì in alto invece c'è anche Voldemort E perché ci sei tu in mezzo? Dovete sapere che siamo a Londra E in questo momento siamo appena arrivati negli studios di Harry Potter In realtà siamo ancora all'entrata e io non vedo l'ora di entrare, sono super curioso Voi avete visto i film di Harry Potter? Fatecelo sapere, ma dovete sapere che proprio qui dentro in questo posto hanno registrato tantissime scene del film Quasi tutto Dominique, qui dentro c'è la casa, la scuola, il treno, il quartiere dei maghi e tanti altri posti Quindi entrare qui dentro sarà proprio come entrare nel mondo di Harry Potter Entrare proprio nel film, negli stessi luoghi Dove ci sono stati gli attori e dove è nato tutto Sarà stranissimo E quindi Dominique, che cosa stiamo aspettando? Andiamo! Voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se siete curiosi di scoprire che cosa c'è qui dentro E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla Stiamo per diventare dei maghi, andiamo All'entrata ci attendono già loro tre Wow Questi qui sono gli scacchi giganti del primo film Andiamo! Si comincia così, con un drago attaccato al tetto Wow, è incredibile Non ci cade addosso, vero? Spero di no Siamo proprio sotto di lui Ho paura Guardate, questa è la stanza di Harry Lì sotto la scala C'è tutto lì dentro Sì, è dove usavano tutti i maghi E guardate lì Ci sono anche le divise Che strano camminare qui in mezzo Guardate, sembrano quasi veri I vestiti sono veri Sembra di essere lì con loro Questo è il tavolo dei professori Ed eccoli qui Certo, loro sono dei manichini Ma tutto il resto è vero Cioè, anche i vestiti sono veri? Sì, sono veri Guardate È incredibile C'è proprio tutto Wow, guardate che bello Come scintilla Ci sono dei bicchieri nel ghiaccio E che carino questo vestito Pensi mi starebbe bene? Non lo possiamo comprare Nemmeno provare? No, nemmeno Qui ci sono tutte le parrucche Ti starebbero bene Soprattutto questa qui Ma anche questa qui In effetti Wow, guardate quante Mi fa venire molta sete Ma dai, non si perde Andiamo Guardate qui È il dogmitorio di Gryffondoro E quello È il letto di Harry HP Sì, c'è scritto Harry Potter Ci sono persino le divise appese E i vestiti Ad asciugarsi Sembra che i personaggi siano stati qui fino a un attimo fa È incredibile Tutte le panchette Wow Wow Eric, guarda qui Sono dei passaporti Passaporti di Harry Potter Esatto Dobbiamo assolutamente averlo Questo passaporto sarà una prova Dirà che siamo stati qui nel mondo di Harry Potter Ma come nei veri passaporti servono dei timbri Dei lascia passare Dei visti insomma Eccolo infatti Gryffondoro Dobbiamo dire che siamo stati nella casa di Gryffondoro Quindi ci serve un timbro Uno tu e uno io Inizio Ok Metto il foglio sotto il timbro Sì, brava, precisa E poi? E poi devo schiacciare il pedale Vado? Vediamo Wow Ragazzi non so se riuscite a vederlo Sì, sì, si vede È bellissimo Viene una stampa a rilievo Proprio come questa Anch'io Cerco di essere preciso e Perfetto Fantastico Ciao Siamo dentro lo specchio Dominic ci penso io a leggere la mappa Allora Vediamo un po' Wow Che strana questa mappa Guardate Sembrano veri Ci sono davvero loro Così sott'occhio Sembrava Fossero i veri attori Se ne stanno lì Vicino al camino A mangiare noci Vai, 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 vai Eric, vai No, no, no Dominic non ho fatto niente Perché mi porti in presidenza? Perché è bellissimo Guardate Sì, ma ho un po' Paura di lui È pur sempre il preside Posso fare una richiesta di ammissione alla scuola? Certo, mi manca ancora la bacchetta Non lo so Chiedi a lui Si sta girando la scuola Io te l'avevo detto Questo qui è un posto veramente magico Wow, è stranissimo Fanno la lezione di pozioni E qui ci sono le scope magiche Questi sono tutti i trofei magici Cosa devo fare per vincerne uno? Ragazzi, adesso stiamo per fare una cosa fantastica Saliremo su una delle scope magiche Proprio come quella di Harry Potter E voleremo Voleremo davvero Sarà stranissimo Ma è sicuro? Non sarà pericoloso? Sì, sicuro Diciamo che in realtà non andremo molto in alto Sarà strano Guardate Quelle sono le scope Noi ci saliamo e... Guardate cosa succede Voleremo come quelli Al prossimo episodio Grazie a tutti. E' il momento di timbrare, timbriamo e... Questa è la prova che abbiamo volato. Wow, che bello. Wow, fantastico. Guarda qui, dice taglia le carote e pulisci la pentola. Ci sono due pulsanti. Guarda, 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 guarda. Non ci credo. Ragazzi, quel coltello si muove da solo. Sta tagliando la carota. E quindi se tocco questo... Oh, guardate, si sta pulendo da solo. Non ci credo. Dominic, dobbiamo assolutamente diventare dei maghi. Sono stata io, con la magia. Dobbiamo diventare dei maghi. Guardate. Il maione si fa da solo. E anche i vestiti si stirano da soli. Questo sì che sarebbe comodo a casa. E' il momento di un nuovo timbro. Posizioniamo e... Andiamo. Wow, guardate. Qui non sta accadendo nulla di piacevole. Proprio nulla. Sì, no. Guarda, sei qui. Sì, un cucciolo di serpente vuole mangiarla. Poverino. E' tutti loro qui ad assistere. Non so se avete visto il film, ma lui è cattivo. Tremendamente cattivo. Eh, scusami, dietro serpente lui. Sì, è cattivo. Sei cattivo. Guarda. Oh, ma questa stanza è bellissima. Ma guardate. Già, è tutto quanto rosa. I vestiti, le riflette e anche i sfogli. E i gatti, guardate. Sì, tremendamente rosa. Quindi voi state tenendo quello? Volete una mano? Stiamo per entrare nella foresta proibita. E' la foresta che è proprio accanto la scuola di Hogwarts. Wow, non sembra molto carina. Sì, sì, è proprio proibita. Oh, mamma, c'è del fumo. Eh, ciao. Ciao, Hagrid. Come stai? Che mi dici? Come va nella foresta oggi? Oh, mamma. Wow. Ecco perché è proibita. Ci sono delle creature strane. Wow. Sembra incredibilmente vero. Ciao. Sono sicuri che non è reale? Che paura. E' bellissimo. Qui dice notte e giorno. Se premo, che succede? Non lo so. Li senti? Sono dei lupi di notte. Ecco cosa succede. Che diventa tutto notte. Wow. Che assurdo. Fulmini e sette. Oh, mamma. Che incredibile. Rifallo. C'è vento adesso. Lo senti? Sì. Fa freddo. Oh, mamma. Ho fatto tutto. Sì. 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 Ma guarda. Che incredibile. Ma che un'altra? Sinistra ovunque. Anche lì a destra. Ciao. Come state, signori ragni? Noi ce ne andiamo dalla vostra foresta proibita, ok? È terrificante. Ce ne stiamo giusto per andare. Cosa? Guarda, guardate. Guarda, Eric. Se ne sono andati. Già, non ci sono più. Ok, andiamocene anche noi. Ragazzi, siamo dentro la casa di Harry Potter. Guardate, questo è il momento in cui arrivano tutte le lettere. Sembra di essere davvero lì. E sembra che queste lettere vogliono davvero. Wow, ragazzi. Siamo dentro la banca. È incredibile. Già, è bellissima. La banca dei maghi. È super bella. Vieni, andiamo a parlare con uno di loro. Salve. Salve, salve. Scusi, vorrei un nudo. Salve, signor Teller. Sì, Teller, giusto. Come va? Tutto bene? Che espressione seria. Guarda le sue mani. Già. Salve. Qui comanda lei, a quanto sembra, no? Guardate, ha un banco gigantesco. Già, più grande degli altri. Wow, ci sono tutti i registri. Wow, quanto oro. CGI guys, è un'altra cosa emoziosa. E' un'altra cosa emoziosa. E' un'altra cosa emoziosa. E' un'altra cosa emoziosa. E' un'altra cosa emoziosa. Wow, mamma, che è tutto c'è dentro qui. Wow. Non sembrava affatto amichevole. Guardate qua. Questo è il vero negozio di bacchette magiche di Harry Potter. Guardate, è qui dentro. Ci sono delle bacchette. Wow, guardate tutti questi negozi. Qui possiamo comprare una scopa magica. Sta vomitando caramelle. Non è tanto invitante. Wow, guardate che bello questo negozio. E siamo stati anche qui. Quindi timbriamo. Perfetto così. Salve, e qui dov'è che siamo? Wow, Eric, guarda. Che c'è? Wow, siamo alla stazione. C'è il treno per Hogwarts, quello vero. Dominica, tutto quanto, pure lo zaino. Pronto a partire? Oh, sì. Non funziona. Prova, prova, prova. No, no, non funziona. Non vai da nessuna parte. Resti qui. Perché? Altro timbro alla stazione. Questo certificherà che siamo stati al binario 9,75. Wow, guardate. Sto facendo, guardate. Ma che fumo. Senti, c'è il rumore. Ci siamo. Stiamo salendo sul treno. Oh, mamma, che strano. Ciao, ciao a tutti. Noi ce ne andiamo a Hogwarts. Wow, guarda qui. È stranissimo. Sono sempre stato molto curioso di vedere che cosa c'è sul treno che porta Hogwarts. No, non si apre. Come non si apre? No. Sarà prenotata, vai e va. Ok. Oh, guarda i finestrini. È bellissimo. Wow, guarda qui. Cosa c'è? Ma qualcuno qui ha dimenticato il trasportino per gatti. E quello che cos'è? Ci sono tutti gli oggetti dentro. Già. Dobbiamo scendere, purtroppo. Che significa? No, aspetta, che significa? Non puoi restare qui, andiamo. Ma non parte, vogliamo via. Andiamo a Hogwarts. No, purtroppo no, Eric. Era un film. Guardate, questa è proprio la scena del film. Del primo film. Dove si incontrano per la prima volta è Harry e Ron. Avete notato quel topo? Sta mangiando. È qui alla fine, quando sono grandi. È il momento di andare, Eric. Dobbiamo tornare a casa. E non ad Hogwarts. Ciao, è stato bello. Magari un giorno, quando mi vorrete come mago, andrò a scuola di maghi e tornerò qua. Magari un giorno. Magari. Ciao. D'insieme, insieme, insieme.